Bene 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 bene. Allora Monica, qual è il tuo problema? Dottoressa, il mio problema è molto semplice. Mi piace fare sesso con gli sconosciuti. Bene 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 bene. No, tranquilli ragazzi, stanno facendo dei lavori qua vicino, può darsi che succeda di nuovo. Quindi stavamo dicendo, ti piace fare sesso con gli sconosciuti? Sì, e se fossero più di uno, sarebbe ancora meglio. Due, se sono almeno cinque o sei, è ancora meglio. Che argomento interessante! Però volevo chiedere, quando sono multipli di due, no? Con cinque e sei, cioè io, nel senso, multipli di due ecco. E tu come, come ti ubici? Ragazzi, ma cosa state facendo? Alzatevi! Ragazzi! Che cosa state facendo? Alzatevi per favore! No, 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 li lasci pure qui. Anzi, le dispiacerebbe spegnere la luce. Al buio, poi, è ancora meglio. Ma tu sei pazza! E quando mi ricapita? Ragazzi, dai, su! Ragazzi, su via! Ragazzi! 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 Ragazzi!